Musica Ingresso in campo, Atletico Madrid, M8 team, gara per la prima giornata Summer Cup Le due squadre che arrivano al centrocampo Il capitano con la bocca per balla in campo Che situazione non è? Il capitano con la bocca per balla in campo Il capitano con la bocca per balla in campo Il capitano con la bocca per balla in campo Lo saluto alle due squadre Ciao ragazzi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.